Una delle meraviglie di questo mestiere è oltre che mettersi nei panni degli altri anche viaggiare nel tempo e quindi è stato bello dare forma e carattere a tre personaggi femminili molto diversi chiaramente ognuno inserito nella propria epoca per cui in questo caso siamo veramente una donna che anche lei è molto moderna perché Bianca in realtà è una lavandaia ma posa come modella nello studio dei più grandi artisti del Rinascimento per cui è una donna che si è emancipata ma è consapevole dei propri limiti per cui quando nasce questa storia d'amore con Cosimo de' Medici si rende conto che lei non potrà mai essere la compagna di un uomo potente, di un uomo ricco e quindi tornerà nella sua strada con le lacrime agli occhi, faccio spoiler ma i due si lasceranno. Nella serie, nella prima puntata abbiamo visto che lei dice a Cosimo diciamo i soldi sono più importanti dell'arte perché con l'arte lo stomaco rimane vuoto da artista com'è questa affermazione? Come l'hai vissuta? Innanzitutto grazie. Mettersi nei panni degli altri è proprio perché chi non ha niente, io non so chi a questo tavolo noi qui che stiamo parlando, io non ho mai sofferto veramente la fame quindi se penso a una persona che invece dorme in mezzo alla strada e non ha niente per cui anche un euro, anche una moneta cambia la vita Bianca in quel momento vorrebbe farlo tornare con i piedi per terra perché lui è innamorato e dice guarda io e te tanto possiamo fare tutto quella cosa di due cuori e una capanna, lei non ci crede perché lei viene dalla fame viene dal freddo e quindi vuole, sa cosa vuol dire la mancanza e quindi sta con i piedi per terra, per quello mi piace perché è una donna concreta poi. Nel nostro paese, nella nostra cultura, qui siamo praticamente quasi tutte donne libere che possiamo uscire di casa, in qualche modo determinare e scegliere il nostro destino quindi qui siamo fortunate, in altre parti del mondo è ancora così, per esempio la condizione femminile e quindi godiamoci insomma la nostra fortuna senza darla per scontata tra l'altro perché ci sono sempre passi nuovi da fare.